Questo video è realizzato in collaborazione con la pagina Facebook serie TV & Soap, di cui trovate il link in descrizione. La promessa. Anticipazioni di mercoledì 1 maggio 2024. In cucina, Petra si lamenta con Simona e Candela riguardo a Margherita, la cognata di Cruz, criticandone il gusto nell'abbigliamento e definendola poco elegante. Proprio in quel momento arriva Ana, che chiede aggiornamenti su Don Carlos, ma al momento non si sa nulla. Petra ribadisce il presunto fastidio del maestro per Simona e Candela, e Ana le fa notare la cattiveria che traspare dalle sue parole. Martina si prepara per andare a fare una passeggiata a cavallo, e Curro si offre di accompagnarla. Tuttavia, Martina rifiuta la sua compagnia. Curro insiste dicendo di voler parlare con lei, ma Martina non è interessata. Curro chiede un'altra possibilità, ma Martina ribadisce che non è adatta a lui, che non è ciò di cui lui ha bisogno. Poi, gli chiede di non insistere, e si allontana con il suo cavallo. In cucina, Lope chiede notizie su Don Carlos, ma Simona e Candela non hanno ancora informazioni. Candela afferma che devono fare qualcosa per scoprire cosa gli sia accaduto, ma purtroppo sono vincolate dall'ordine di Pia che vieta loro di lasciare la tenuta. Così, le cuoche chiedono a Lope di intervenire per scoprire cosa è successo al maestro. Inizialmente, Lope si rifiuta, ma alla fine viene persuaso ad agire. Ana porta a Pia la crema che aveva preparato per Imena, e le consiglia di applicarla sulla pancia per prevenire le smagliature. Poi, Ana fa notare a Pia che ha capito che la bottiglietta di cicuta appartiene a Gregorio, poiché Pia non ha trascorso la notte con suo marito, e ha evitato di chiamare la guardia civile. Pia ammette la verità, e si domanda il motivo per cui Gregorio abbia fatto una cosa del genere, decidendo di parlargli per ottenere una spiegazione. Mentre Petra aiuta Cruz a sistemarsi, discutono del padre di Margarita, che ha dato in sposa la figlia a Fernando sperando di vederla circondata dalla nobiltà. Ma ha valutato male la situazione, poi, Cruz esprime la sua soddisfazione per aver allontanato Ana da Imena, e per aver persuaso Manuel a consultare un medico per lei. Simona e Candela sono impegnate in cucina quando arrivano Mauro e Teresa, che comunicano che la Marchesa e Margarita hanno ordinato il soffle al cioccolato che Lope sa preparare così bene. Tuttavia, Lope non si trova alla tenuta, poiché è uscito per cercare notizie su Don Carlos al posto delle cuoche. A questo punto, Simona e Candela entrano in panico. Pia si reca da Ana per comunicarle una brutta notizia. La Marchesa Cruz ha ordinato che Ana sia mandata nuovamente a lavorare nella dimora dei Duchi de los Infantes, poiché la Duchessa Mercedes ha bisogno di lei. Ana viene presa dal panico, poiché ricorda le brutte esperienze passate, ma Pia le assicura che farà il possibile affinché non si ripeta. Intanto, Catalina, Lorenzo, e Alonso, mettono a punto gli ultimi dettagli per il contratto di cessione del terreno della promessa a Lorenzo, e sia Lorenzo che Alonso si preparano a firmare. Ana, prima di partire, va a salutare Maria, che è preoccupata che Ana venga nuovamente maltrattata. Ana la rassicura, dicendo che non lo permetterà, e chiede a Maria di andare al suo posto all'appuntamento con la persona che ha scritto il bigliettino nella sua casa di infanzia. Inizialmente, Maria rifiuta per paura, ma alla fine si lascia convincere. Nel mentre, in cucina, Simona, Candela, Mauro, e Teresa, sono in ansia per la preparazione dei soufflé. Per un istante, passa Romolo cercando Pia, ma non si accorge di nulla. Appena si allontana, Simona estrae dal forno i soufflé che sembrano essere venuti proprio bene. Lope è finalmente tornato alla promessa, e sta parlando con Mauro dei soufflé, che fortunatamente hanno avuto successo. Poi, Mauro nota nella spazzatura i mirtilli che Maria aveva dato a Lope, ma proprio in quel momento arrivano Salvador e Maria. Salvador afferma di averli gettati lui, per non doverli lasciare a Lope, accusandolo di aver boicottato il suo matrimonio. Lope nega fermamente le accuse, ma Salvador reagisce violentemente, e cerca di aggredirlo. Mauro interviene per fermarlo, mentre Salvador, vedendo Maria difendere Lope, le urla che Lope è innamorato di lei da sempre, lasciando Maria sbalordita. Pia è nel suo ufficio, e ripensa alla conversazione avuta con Ana riguardo a Gregorio, e alla sua presunta intenzione di avvelenarla. Durante questo momento di riflessione, si accorge di non avere più la bottiglietta di cicuta in tasca, e la cerca ovunque, ma non la trova. Alonso, Cruz, Margarita, e Ferdinando, sono riuniti in salotto, quando arriva Martina, alla quale sua madre dice che è giunto il momento di tornare a casa loro. Martina esprime il suo desiderio di non voler lasciare la promessa, e sia Alonso che Cruz dichiarano di essere lieti di ospitarla nella loro dimora. A questo punto, i genitori di Martina le chiedono di dire ai suoi zii il vero motivo per cui si stia nascondendo alla promessa, affinché, una volta venuti a conoscenza della verità, non siano più così generosi con lei. Intanto, Pia si dirige di corsa in camera per cercare la bottiglietta di cicuta, ma vi trova Gregorio. L'uomo ha preso la bottiglietta, e confessa a Pia di aver cercato di uccidere il suo bambino perché non è lui il padre. Poi, Gregorio immobilizza Pia, e tenta di farle bere la cicuta dalla bottiglietta. Proprio in quel momento, irrompe Romolo nella stanza con due gendarmi che afferrano Gregorio, liberando così Pia, visibilmente sconvolta. Romolo ordina quindi ai soldati di portare Gregorio nel suo ufficio. In salotto arrivano Catalina e Curro, dove trovano ancora Martina con i suoi genitori e gli zii. Sotto l'insistenza dei genitori, alla fine, Martina è costretta ad ammettere di essere fuggita da Madrid perché ha commesso un atto indecoroso. Durante una festa è stata sorpresa a baciare un ragazzo che non era nemmeno il suo fidanzato, motivo per cui ha scelto di fuggire per la vergogna, causando ai suoi genitori l'onta dei pettegolezzi più vili della società. Curro si irrigidisce a questa notizia, mentre Martina scappa via. La servitù è riunita in sala da pranzo, e si discute di quanto accaduto a Pia, quando arriva Romolo assieme ai gendarmi e Gregorio, ammanettato e visibilmente alterato, che rivolge brutte parole ai domestici. I gendarmi lo portano via, e Romolo chiede a Maria di cercare Ana, ma lei informa Romolo che Ana è stata nuovamente mandata al Palazzo dei Duchi, i genitori di Imena. Martina sta uscendo per una passeggiata, quando viene intercettata da Curro che vorrebbe accompagnarla, ma lei ancora una volta rifiuta. Curro le chiede il motivo per cui, dopo tante confidenze, non le ha parlato di quel ragazzo, dicendo che a lui non importa, dato che non stavano ancora insieme. Martina risponde che si vergognava, e chiede a Curro di non parlare più di quella faccenda. Candela si reca a trovare Pia nella sua camera, e Pia, ancora sconvolta e piangente, cerca conforto in Candela. Le confessa che è stato Gregorio ad avvelenarla poco a poco con la cicuta, e Candela le chiede il motivo dietro a tali azioni. Intanto, Romulo è in sala da pranzo con la servitù, spiegando che Gregorio non voleva uccidere Pia, ma solo il bambino che lei porta in grembo. Tutti sono sconvolti, e Mauro, non sapendo che il bambino è di un altro uomo, si domanda perché Gregorio volesse uccidere il suo proprio figlio. Pia continua il suo racconto a Candela, spiegandole che, dopo aver trovato la cicuta, non riusciva più a dormire nello stesso letto con Gregorio. Così, la notte precedente, ha deciso di trascorrerla in ufficio a lavorare. La mattina seguente, quando è tornata in camera per cambiarsi, ha trovato Gregorio, che le ha confessato di voler uccidere il futuro nascituro, e poi ha cercato di avvelenarla dopo averla immobilizzata, fortunatamente senza riuscirci grazie all'arrivo di Romulo. Simona si congratula con Romulo per aver salvato la vita di Pia, e tutti concordano sul fatto che Gregorio fosse un uomo pazzo, e che non provasse amore per Pia. Terminata la discussione, tornano tutti ai loro compiti. Romulo approfitta del momento per regalare a Salvador una nuova benda per l'occhio ferito, consentendogli di sostituire quella vecchia. Salvador la indossa, si guarda allo specchio e scoppia in lacrime. Si è fatta sera, e mentre Simona e Candela prendono una tisana, arriva Lope. Informa le cuoche di essere andato a casa di Don Carlos. Spiega che la figlia gli ha aperto la porta, e gli ha detto che il padre non era in casa, ma era partito per un viaggio, senza fornire ulteriori dettagli. Le cuoche sono perplesse, e si chiedono perché Don Carlos non le abbia avvertite. Catalina sta finendo di mettere a posto alcune carte. E Lorenzo si siede con lei. Ma lei sembra essere meno socievole del solito. Lorenzo le chiede il motivo di tale cambiamento. Catalina risponde che crede che l'intenzione di Lorenzo fosse solo quella di ingannarla, manipolarla e usarla. Lorenzo nega, affermando di aver reclamato il debito solo a causa di un'opportunità di affari. Ma Catalina non è convinta, e si allontana. In camera, Alonso parla con Cruz di Martina. E Cruz dice che, conoscendo Margherita, probabilmente ha esagerato riguardo alla questione del bacio di Martina. Propone ad Alonso di parlare direttamente con Martina per darle la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti. E Alonso promette che lo farà. La servitù, in cucina, sta preparando la colazione. E durante la conversazione, si discute della partenza di Ana. Candela si chiede perché i duchi non assumano la loro servitù, considerando le loro ricchezze. Tuttavia, Teresa ipotizza che Ana sia stata mandata via perché la Marchesa non gradiva che si prendesse cura di Imena, e ha trovato un modo per punirla. Imena raggiunge Manuel in studio, e lo trova al telefono. Manuel le spiega che stava parlando con un suo amico di Malaga di nome Abel, che è un dottore, e lo ha chiamato per invitarlo alla promessa, in modo che possa seguire Imena nella gravidanza. Tuttavia, Manuel aggiunge che Abel non potrà partire subito a causa di vari impegni. Imena risponde di sentirsi molto meglio, e che non c'è fretta. Curro chiede a Mauro dove si trovi Ana, ma Mauro gli spiega che è stata mandata a casa dei duchi de los Infantes, e gira voce che sia stata una punizione da parte di Cruz, poiché Ana si è presa cura di Imena. Curro si stupisce, e chiede a Mauro di tenerlo informato. Maria è molto nervosa, e Teresa le chiede cosa le succeda. Maria risponde che Salvador ha detto che Lope è innamorato di lei, e lo ha fatto davanti a Lope stesso e a Mauro. Inoltre, Maria ha notato che Lope non ha reagito e se n'è andato. Teresa allora consiglia a Maria di parlare con Lope, ma Maria è molto ansiosa all'idea di affrontare questa conversazione. Catalina si reca da Cruz, e le confida di non riuscire a darsi pace, perché Lorenzo si è appropriato di un quarto della promessa. Cruz le ribadisce di non pensarci, e di mantenere buoni rapporti con Lorenzo, poiché in questo particolare momento è necessario. Catalina rimane contrariata, e mentre Cruz sta per andarsene, arriva Curro, che chiede spiegazioni alla zia sul motivo per cui abbia mandato Ana a lavorare dai duchi dello Sinfantes. Alberto, visto che l'ultima volta è stata quasi uccisa, la Marchesa risponde che non deve spiegazioni a nessuno, e si allontana. Alonso è nello studio con Martina, e desidera conoscere la sua versione dei fatti riguardo al bacio che i suoi genitori hanno rivelato. Martina spiega che, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha baciato un ragazzo che non era il suo fidanzato, ma il futuro promesso sposo di Beatrice. Durante il bacio, Beatrice li ha scoperti assieme e ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione degli ospiti alla festa. Alonso le chiede se gli abbia mentito riguardo a Beatrice, e Martina ammette di averlo fatto. A questo punto, Alonso si altera, accusando Martina di essere solo una bugiarda, e affermando che i suoi genitori avevano ragione. Maria parla con Salvador, e gli assicura che Lope è un amico fedele, e non lo tradirebbe mai. Tuttavia, Salvador afferma che Lope è un traditore, che fingeva di essere amico, mentre complottava alle spalle per ostacolare il loro matrimonio. Nonostante sappia che tra Maria e Lope non è mai successo nulla. A questo punto, Maria non può fare altro che confessare a Salvador che tra lei e Lope c'è stato anche un bacio. Salvador si arrabbia, e esprime il suo dolore dicendo che sia la sua fidanzata che il suo migliore amico lo hanno tradito, mentre lui stava combattendo in guerra. Maria tenta di spiegare che quel bacio non ha significato niente, e che dopo non c'è stato più nulla, ma Salvador si sente troppo tradito, e se ne va, lasciando Maria in lacrime. Petra informa Cruz di quanto accaduto tra donna Pia e Gregorio, spiegando che la guardia civile è intervenuta mentre i due litigavano in camera per questioni matrimoniali. Cruz ammette di non aver mai creduto alla storia della loro presunta relazione, ma sottolinea che non devono esserci altri scandali nella loro casa, specialmente ora che Fernando e Margarita sono ospiti. Di conseguenza, decide di parlare con suo marito Alonso per valutare insieme le misure da prendere. Simona e Candela si recano nell'ufficio di Romulo, e lo informano che Pia sta bene e si riprenderà presto da questa esperienza traumatica. Poi, le cuoche esprimono ancora preoccupazione per Don Carlos, e chiedono a Romulo il permesso di andare nuovamente in paese per indagare. Romulo risponde loro che non può trattenerle con la forza, ma le esorta a riflettere attentamente perché, dopo l'ultima volta, stanno mettendo a rischio il loro lavoro. Cruz siede vicino a Imena, e parlano della gravidanza di quest'ultima. Cruz esprime la convinzione che sarà un maschio e che erediterà il marchesato. Inoltre, informa Imena di aver contattato uno dei migliori ebanisti dell'Andalusia per costruire una culla per il futuro nascituro, e quando arriverà la promessa, lo accoglieranno insieme. Manuel è nell'angar, e sta mettendo via le cose del volo quando arriva Teresa per le pulizie. Manuel chiede Diana, e Teresa lo informa che è stata nuovamente mandata al palazzo dei duchi de los Infantes, e sono tutti molto preoccupati. Manuel si sorprende di questa decisione, e promette di informarsi sulla questione, e di riferire poi a Teresa di quanto ha preso. Alonso parla con Cruz, e le racconta di aver avuto una conversazione con Martina. Martina ha rivelato che Beatrice, in realtà, non è sua amica, ma l'accusa di averle rubato il fidanzato. Poi, il fidanzato ha lasciato Beatrice, e quest'ultima è arrivata alla promessa con l'intento di rovinare la vita a Martina. Fernando, il padre di Martina, per evitare uno scandalo, ha deciso di mandare Martina a Parigi, proprio nel momento in cui lei ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte di Leonor. Martina si è quindi recata alla promessa senza informare i genitori, e quando ha visto che Leonor stava male, ha deciso di mandare Leonor a Parigi al suo posto. Alonso chiede a Cruz cosa dovrebbero fare con Martina, e lei risponde che, alla fine, Martina non ha fatto nulla di male. Ciò che ha fatto è stato solo per aiutare Leonor, e per quanto riguarda il bacio, lo considera una scappatella giovanile, come succede a tutti i ragazzi di quell'età. Alonso è sorpreso dalla grande tolleranza dimostrata da Cruz, ma lei spiega che le piace andare contro Fernando, e quindi continueranno a proteggere Martina. Salvador si reca in cucina e affronta Lope, accusandolo nuovamente di tradimento. Lope nega tutte le accuse, ma Salvador gli dice che Maria ha confessato del bacio che c'è stato tra lei e Lope. Tuttavia, Lope sostiene che quel bacio non ha avuto importanza per nessuno dei due, che è successo in un momento di sconforto. Salvador, però, non gli crede. Alonso e Cruz convocano Martina, e le comunicano che hanno deciso di continuare a sostenerla, e che è sempre la benvenuta alla promessa. Martina è felicissima, e ringrazia gli zii abbracciandoli. Dopo che Martina si allontana, Cruz riferisce ad Alonso che, il giorno precedente, la guardia civile ha preso in custodia Gregorio a causa di una brutta discussione avuta con Pia. Quando Manuel arriva in camera, Imena gli chiede se può avere un massaggio da Ana, ma Manuel le comunica che Ana non è disponibile, perché è stata di nuovo mandata a casa dei duchi. Manuel suggerisce a Imena di parlare con i suoi genitori per scoprire il motivo per cui Ana è stata mandata lì, poiché non vuole che sia nuovamente maltrattata. Imena è molto arrabbiata con Cruz, perché sembra sempre interferire, e suggerisce a Manuel che, se vuole delle risposte, dovrebbe chiedere a sua madre, visto che continua a prendere decisioni al loro posto. Teresa vede Simona e Candela ancora molto preoccupate per Don Carlos, e viene informata da loro che Lope ha parlato con la figlia, la quale ha detto che Don Carlos è in viaggio. Candela esprime il suo timore che qualcosa di brutto sia successo a Don Carlos, ma Teresa cerca di rassicurarla, dicendo che sicuramente sta bene. In camera, Fernando e Margherita parlano del passato, quando Fernando era bambino e giocava tra le mura della promessa. Fernando osserva che la casa non sembra più la stessa con tutte le ristrutturazioni avvenute, ma afferma che sopporteranno tutto per raggiungere i loro obiettivi. Catalina raggiunge suo padre Alonso, e gli chiede il permesso di tornare a Cadice per rivedere il palazzo che il barone ha lasciato loro in eredità, per accertarsi che sia tutto a posto. Alonso le dà il suo consenso, e le dice che le farà bene cambiare aria. Romulo va a trovare Pia nel suo ufficio, e le chiede come sta. Pia risponde di sentirsi triste perché si era illusa che Gregorio fosse una brava persona e desiderava un futuro con lui. Romulo cerca di consolarla, ma vengono interrotti da Petra, che comunica loro che il marchese li vuole vedere immediatamente. In cucina, Simona e Candela parlano ancora di Don Carlos quando arriva Lope. Gli chiedono nuovamente di coprirle per un paio d'ore, perché vogliono recarsi di nuovo in paese, ma Lope questa volta si rifiuta categoricamente, dicendo che non vuole più fare la figuraccia della volta precedente. Mentre Martina è nei corridoi del piano nobile, viene intercettata da Curro, che la bacia all'improvviso. Martina afferma che non possono continuare la loro storia, perché lei è oggetto di pettegolezzi in tutta Madrid dopo la storia del bacio, e nessuna buona famiglia vuole più accoglierla in casa sua. Curro risponde che non gli importa, e che tutto ciò non cambia quello che prova per lei, e che l'ama profondamente. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.